Cassino si adegua alle grandi città europee ed italiane, almeno nella gestione della sosta a pagamento. È stato presentato in mattinata il progetto Easy Park, quello attraverso cui sarà possibile stabilire il tempo della sosta sulle strisce blu e pagare tramite cellulare attraverso un'app. Alla presentazione erano presenti il sindaco D'Alessandro, il suo vice Palombo e l'amministratore della società Easy Park. Il tutto si è reso necessario a causa dell'adeguamento alla legge di stabilità del 2016 con cui è entrato in vigore l'obbligo di adeguare i parcometri all'utilizzo di banco, matte e carte di credito. Oltre all'adeguamento, che secondo il vice sindaco Palombo è in corso sulle infrastrutture, si è deciso di puntare su questa app che permette di gestire la sosta attraverso lo smartphone con il pagamento tramite carta di credito o Paypal. Ma come funzionerà il tutto? Il pagamento avverrà con l'app e quando la sosta sta per scadere il fruitore verrà avvisato attraverso una notifica. Qualora la sosta dovesse durare di meno avverrà il rimborso in base al tempo effettivo. Il servizio a pagamento tramite possa avverrà su tutti i parcometri non appena l'adeguamento sarà avvenuto, mentre il sistema Easy Park solo in centro. Soddisfatto il sindaco d'Alessandro che ha sottolineato con questo progetto vogliamo facilitare gli utenti che fanno uso delle aree di sosta a pagamento, premesso che era doveroso uniformarsi alla normativa.